Da oltre 30 anni il concetto BMW GS descrive il piacere di guidare e la passione per le avventure. Questo vale in particolare per le moto GS Comodore Boxer, molto confortevoli e prestazionali, tanto che invitano a scoprire gli angoli più remoti del pianeta. È l'insieme del concetto di grande enduro da viaggio, il fascino della tecnologia tedesca e la potenza sempre pronta del propulsore che crea la combinazione ideale. Ma si può sempre far meglio, come ha voluto dimostrare la stessa BMW creando la nuova versione della R12GS. Giunta al decimo anno di produzione, l'attuale R12GS gode dell'esperienza dovuta agli oltre 170.000 esemplari venduti nel mondo. Di qui la voglia di provarla in terre lontane, in mezzo a panorami insoliti e selvaggi e ad animali che nella vecchia Europa non troviamo fuori dalla porta di casa. Ma torniamo alla GS appena rinata. Il motore Boxer della nuova versione continua a puntare sull'aria liquido, ma il liquido di raffreddamento olio motore è stato sostituito da una miscela acquaglicole. Al fine di garantire un migliore raffreddamento, il passaggio dell'aria avviene adesso in direzione verticale e non più orizzontale. Nel carter del motore sono stati integrati il cambio a sei marce e una frizione in bagno d'olio, con funzione antisaltellamento che sostituisce la frizione a carter secco del passato. Con i suoi 125 cavalli a 7.700 giri per un peso di 238 kg, la nuova GS 1.2 offre inoltre un perfetto equilibrio tra coppia e accelerazione, adatta a marciare su qualsiasi terreno. Per la prima volta inoltre in una GS viene utilizzato il sistema A-Gas che ha reso possibile l'ottimizzazione della risposta del motore, mentre il pilota può adattare la risposta stessa selezionandola tra 5 modalità di guida, Rain, Road, Dynamic, Enduro o Enduro Pro. La ciclistica della nuova R12GS si basa sul nuovo telaio a doppia trava in tubi d'acciaio, con telaglietto posteriore scomponibile, ma ha rivisto anche l'impianto frenante con pinze freno monoblocco Brembo ad attacco radiale e ABS-BMW di serie. Il parabrezza della R12GS infine, riprogettato per il nuovo modello, abbina ad una migliore protezione e la riduzione della rumolosità aerodinamica in marcia. Quale migliore soddisfazione dunque, se non quella di cogliere i panorami più diversi da bordo della più innovativa fra le moto da Enduro?